ciao ragazzi cosa se che si vede qualcosa ragazzi noi stiamo qua in pochi ma buoni ciao enrico marta raffaele e poi ci sta monica e monica gamba sempre michela tranne quelle che stanno in ferie chi in montagna e chi a mare stromboli stromboli a sant'antiago stanno a sant'antiago c'è marta milano debbora ciao debbora ma non scrompoli come isola scrompoli per dire quella paraccia che ci sta ciao paolo paolo portici andanella a latina grazie salutiamo pure giuseppe tamburino che sta sulla costa smerata è grande sta imperio sta la costa smerata ci manda quelle foto con quel mare